Abbandonando le navi, ho garantito a tutti voi due cose. La prima è che i soccorsi erano in arrivo, da Fort Resolution, con il Tenente Ferrolm e la squadra che ho inviato l'estate scorsa. Ora sappiamo che quegli uomini sono morti. Li ho trovati io, ero di guardia e il Capitano Crozier mi ha fatto giurare di non dire nulla. Lei mi ha tradito, faccia silenzio, potrà parlare dopo. Il Sergente Tozer e il Signor Morphin hanno scoperto ciò due giorni fa, come solo alcuni di voi già sanno. Ho deciso di tacere, è stata una mia decisione, la prenderei di nuovo, non per ingannarvi, ma per farvi mantenere il controllo. Però ora sappiamo, ora tutti noi sappiamo, che nessuno verrà mai a cercarci. Dobbiamo cercare di cavarcela con le nostre forze. Non so quale fosse il piano che il Signor Hicchi aveva escogitato, però so che non vi includeva tutti. E chi di voi sarebbe andato con lui, vi posso assicurare che sarebbe stato bruciato come carbone. Lui vi avrebbe mentito e spremuto fino allo stremo. E adesso vi dirò come lo so. Signor Deagle, prego, apra queste sacche e dica agli uomini cosa contengono. E' carne fresca, signore. Più forte, si faccia sentire. E' carne fresca. Che tipo di carne? Di foca, signore. Grazie. L'altra promessa che vi ho fatto era che una volta incontrati i Netsilik, questi ci avrebbero aiutati. Il tenete Irving li ha trovati. E sapete che cosa gli hanno fatto? Dottor Gusser, le dispiace? Lo hanno nutrito. Lo hanno nutrito. A farlo a pezzi e sfigurarlo è stato il Signor Hicchi. Non sono stati i Netsilik a tagliargli i genitali e a fargli 23 buchi nei polmoni con un coltello da barca. È stato il Signor Hicchi! Non erano feroci combattenti, quegli eschimesi. Sembravano una famiglia piuttosto. Quattro uomini, una donna anziana e una bambina. Molto piccola. Non aveva più di sei anni. Il Signor Hicchi vi ha mentito.